ciao a tutti ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video io sono morgana e questo è come già conoscete il mio canale di cartomanzia bene volevo ringraziare tutti coloro che si sono iscritti al mio canale vedo che i miei video vi piacciono molto e il canale sta veramente crescendo e di questo ne sono molto contenta ringrazio tutti quelli che mi scrivono un email che mi scrivono un commentino e che mi sono affezionati ricordo che i miei video sono interattivi cioè la stesura è fatta in modo generale e perciò nel momento in cui voi non trovate niente che accomuna la vostra situazione con la mia stesura vi chiedo cortesemente di cambiare variante oppure di cambiare video o se volete approfondire un argomento in particolare io vi lascio sia in sovrimpressione durante il video ogni tanto apparirà il mio indirizzo di il mio indirizzo email e ve lo lascio anche nelle info così se voi avete qualche argomento da approfondire potete scrivermi un email e insieme cercheremo di trovare una soluzione e cos'altro volevo dirvi volevo dirvi che i miei video sono a scopo di intrattenimento e ludico come leggete nelle info e qualsiasi decisione o qualsiasi come si dice strada sceglierete di prendere dopo aver visto uno dei miei video sarà una vostra e pura responsabilità i miei video sono a scopo di intrattenimento e ludico vi volevo dire un'altra cosa quando vedete una delle mie uno dei miei video cortesemente di non scrivermi cosa significa per voi perché io giustamente non riesco a sapere tutte le condizioni ecco perché dico sempre che le mie i miei video sono interattivi cioè stesure generalizzate per chi volesse approfondire un argomento chiedo cortesemente di scrivermi un email e lì potremo approfondire qualsiasi domanda oggi andremo a fare un video un po particolare perché ho deciso di cambiare un pochino i miei video cercare di più che posso di standardizzare la settimana con determinati argomenti che abbracciano un po tutto allora il video di oggi si intitola cosa devi sapere adesso ciò che cosa devi sapere ciò che devi sapere adesso in base alla situazione che voi avete per mano non so dovete scoprire qualcosa nell'ambito sentimentale dovete sapere qualcosa nell'ambito lavorativo affettivo oppure nell'ambito della famiglia vediamo che cosa secondo le carte voi dovete scoprire o dovete sapere in questo momento bene adesso io preparerò le varianti con i segnalini e poi ognuno di voi potrà scegliere la propria benissimo ecco qua le varianti già pronte e sistemate la prima variante abbiamo il ranocchio la seconda abbiamo l'elefante e la terza abbiamo la tartaruga adesso io vi lascio qualche secondo per decidere qual è la variante che più vi aggrada che più intuitivamente vi attira e poi andremo a leggere che cosa le carte ci vogliono dire per quanto riguarda cosa devi sapere adesso benissimo andiamo a vedere cosa ci dice la prima variante per quanto riguarda il ranocchio lo metto qua così è ben in evidenza vediamo quali carte sono uscite allora abbiamo il fante di coppe poi abbiamo il fante di coppe è un personaggio o sta a significare la devozione la creatività la gentilezza è molto fantasioso diplomatico e sensibile questa carta combina il simbolismo del fante col simbolismo del seme di coppe è ricco di fantasia creativo e sensibile alla capacità di ascoltare contatto e sensibilità la sua energia risiede nel cuore più che nella testa si tratta quindi ha ancora molta possibilità che il suo percorso di crescita prenda la direzione sbagliata il rischio è quello di prendersi di perdersi nei meandri dell'immaginazione senza produrre in concreto le intuizioni si riesce a sviluppare il suo potenziale in maniera equilibrata e può essere di grande aiuto agli altri grazie alla sua dolcezza tolleranza e capacità di sentire ciò significa che quello che dobbiamo sapere in questo momento è che o noi stessi o la persona a cui rivolgiamo il nostro pensiero deve crescere un altro poco dobbiamo essere più o deve essere più dolce e si tratta di una persona molto fantasiosa e sensibile che però potrebbe prendere la direzione sbagliata anche la nostra situazione potrebbe prendere una direzione sbagliata perché diciamo la sua sensibilità lo porta diciamo a ragionare più con il cuore che con la mente il sette di pentacoli ci porta una situazione di insoddisfazione delusione e fallimento abbiamo un momento di scoraggiamento siamo scoraggiati l'immagine di questa carta rappresenta una persona che osserva sconsolato i frutti del suo lavoro e di conseguenza non è soddisfatto il successo mancato però ha due sfumature può trattarsi effettivamente che il risultato ottenuto sia scarso oppure è soddisfacente ma noi volevamo qualche cosa in più in questo caso è necessario ragionare sulle proprie motivazioni per chi è nel sentiero di crescita spirituale non è importante il successo o il fallimento ma è importante avere agito al meglio diciamo che il sette di denari porta questa forma di delusione e infelicità per tutto quello che si è raggiunto anche se quello che si è raggiunto è tanto però noi fondamentalmente non siamo convinti di questo traguardo che siamo riusciti ad arrivare dove siamo riusciti ad arrivare perché volevamo sempre di più anche se fondamentalmente di più in questo momento non potevamo avere perciò in questo momento io adesso prima farò tutta la lettura delle carte poi darò una sintesi generale di quello che le carte vi vogliono dire perciò fondamentalmente in queste due prime carte diciamo che la fantasia l'estro la creatività ci ha portato a un risultato che anche se soddisfacente per molti per noi non è abbastanza infatti la carta delle fate ci dice che stai cercando una svolta nella tua carriera e desideri un lavoro autonomo questa carta indica che le tue recenti idee imprenditoriali sono valide e che puoi fidarti dell'intuito perseverando la tua ricerca presto riceverai una nuova notizia che sicuramente ti porterà delle offerte di lavoro una promozione o una nuova opportunità di carriera prenditi del tempo per meditare sulle tue reali aspirazioni professionali poiché ti si presenteranno diverse opportunità potresti aprire una nuova impresa che avrà successo potresti crescere nella tua carriera attuale cerca di mantenere sempre attivo il progetto che hai in mente fidati dell'intuito in merito alla professione avrai sicuramente una svolta positiva nella carriera e il tuo lavoro attuale attraversa un prospero periodo perciò fondamentalmente anche se noi non siamo soddisfatti perché questa carta ci dice che noi non siamo soddisfatti della situazione attuale però fondamentalmente noi abbiamo raggiunto un punto veramente ottimo nel nostro lavoro perciò quello che dobbiamo noi cercare di capire in questo momento è che quello che noi siamo riusciti a raggiungere è quello che potevamo ottenere in questo momento infatti questa nostra diciamo questa nostra crescita sia nel lavoro sicuramente questa è nel lavoro comunque questo qui si può anche rapportare all'amore se abbiamo una situazione affettiva perché quello che siamo riusciti a raggiungere con la persona amata è quanto più possibile potevamo raggiungere in questo momento è fondamentalmente di più adesso non potevamo cercare tutto questo che cosa ci porta? ci porta ad avere intorno della gelosia ci porta ad avere intorno della gelosia di colleghi, di familiari, di ex di tutto e di più e ci porterà sicuramente delle notizie nuove perciò questa è la prima variante che cosa ci vuole dire? che in base alla nostra creatività e a tutto quello che noi siamo riusciti a ottenere in questo periodo è il massimo che potevamo avere adesso e fondamentalmente abbiamo avuto un buon risultato abbiamo avuto un risultato che per molti sarebbe stato o molto soddisfacente o sarebbe stato l'apice proprio il massimo raggiungimento della soddisfazione però a noi questo non basta anche se fondamentalmente tutto il successo che noi siamo riusciti ad ottenere può provocare delle gelosie oppure noi siamo gelosi siamo gelosi magari di qualcuno che è salito un gradino in più rispetto a noi e perciò noi siamo gelosi perché siamo insoddisfatti di quello che siamo riusciti ad ottenere io vi dico semplicemente che nella vita chi troppo vuole nulla stringe andiamo a leggere la seconda variante per chi ha scelto la tartaruga bene bene allora la temperanza la pavessa poi abbiamo vita sentimentale incontro e giovane di casa benissimo andiamo a vedere cosa ci dice la seconda variante allora qui abbiamo la temperanza la temperanza ci porta alla moderazione, all'armonia al miscelare, al sintetizzare alla guarigione e alla purificazione qua abbiamo un significato di questo arcano che porta alla protezione e alla purificazione all'equilibrio e all'armonia le sue virtù sono appunto queste due questa carta ci insegna che a volte il giusto approccio non è la forza ma la dolcezza il travaso del liquido da una coppa all'altra simboleggia l'opportunità di riconciliare le energie che sono in questo momento in opposizione questo è il momento per mettere insieme integrare le energie e le persone situazioni e opportunità qua dice diciamo che la temperanza ci consiglia di agire con moderazione di procedere con calma evitare gli estremi e avere un po' di pazienza l'uso della dolcezza per convincere gli altri non devi aggredire il problema usa invece un approccio gentile unisci e non dividere si deve portare armonia nell'ambiente si deve essere delle persone moderate portare la riconciliazione e placare gli animi diciamo che si deve prendere il meglio che c'è delle situazioni e metterli insieme e considerare la prospettiva globale non considerare semplicemente le cose diciamo una per una ma si devono considerare tutte insieme poi abbiamo la papessa la papessa cosa ci dice? la papessa è intuizione, studio, purezza, pazienza e questa carta rappresenta l'intuizione della conoscenza occulta il potere che deriva dalla luna e dalle acque la sua saggezza permette di vedere le cose nascoste e prevedere il futuro la sacerdotessa non agisce a livello materiale ma a livello più profondo della psiche come anche la temperanza ci suggeriva la calma, il distacco aspettare il tempo giusto per agire la purezza interiore che ci permette di diciamo di concentrare e di canalizzare le emozioni negative per eliminarle dobbiamo essere distaccati dagli eventi e cercare di osservarli da lontano e capire quali sono i misteri della situazione attuale quali sono i segreti che circondano questa situazione attuale non agire di impulso non agire di pancia ma queste due carte sono molto affini oggi perché ci dicono tutte e due la stessa cosa dobbiamo agire con moderazione cerchiamo di purificare il corpo di cercare di pensare bene alla situazione che abbiamo davanti e di canalizzare tutte le forze per cercare il più possibile di di diciamo risolvere il nostro problema hai preso questa carta perché in qualche modo la tua vita sentimentale è coinvolta nella domanda che hai posto e questo ti potrà aiutare a comprendere un legame poco chiaro questa carta significa che all'opera un miglioramento in campo sentimentale perciò dato che ci sono state queste due carte prima significa che la stesa sta a significare che c'è di mezzo un qualcosa di amoroso un qualcosa che riguarda la sfera sentimentale e che riguarda magari una, due o più persone questo che cosa significa? significa che dobbiamo amare la nostra vita per infondere energia alla situazione che dobbiamo cercare di muovere in questo momento questo cosa significa? che fondamentalmente nella situazione sentimentale che noi abbiamo in ballo c'è qualcosa che noi ancora non conosciamo c'è qualcosa che ci viene tenuto che ci viene tenuto segreto ci viene tenuto segreto è questo incontro che sarà a breve questo incontro che sicuramente sarà con un giovane che noi già conosciamo un giovane di casa perciò un giovane che noi già conosciamo o sarà il chiarimento della situazione oppure ci svelerà qualcosa che noi ancora non conosciamo andiamo a leggere la terza variante per chi ha scelto l'elefante mi raccomando se non vi ritrovate in una di queste varianti significa che la stesura non fa per voi e se avete qualche domanda da farmi potete scrivermi in privato tramite email abbiamo la forza abbiamo la giustizia pagamento di debiti qualcuno dovrà saltare un debito un legame è la casa benissimo qui abbiamo come prima carta la forza ma qua parliamo non soltanto di forza fisica parliamo di forza d'animo parliamo di energia vitale parliamo di leadership di coraggio di autocontrollo questo arcano rappresenta due tipi di forza quella brutta rappresentata dal leone e quella spirituale simboleggiato dalla fanciulla la forza spirituale riesce a domare quella materiale dimostrando così di essere più potente la forza insegna a domare la nostra natura animalesca attraverso l'autocontrollo la pazienza e la dolcezza questa non è una forza aggressiva che attacca ciò che si trova all'esterno ma è piuttosto rappresenta la forza d'animo che permette all'individuo di resistere alle tentazioni e di domare i propri demoni interiori perciò questa carta ci dice che dobbiamo essere forti dobbiamo affrontare le nostre sfide le sfide che la vita ci propone tutti i giorni che non ci dobbiamo arrendere non dobbiamo cedere dobbiamo coltivare la forza interiore dobbiamo essere pazienti e soprattutto resistenti dobbiamo continuare ad agire correttamente anche se a volte non è facile la forza spirituale vince la forza bruta affronta l'aggressività altrui con la forza della calma e dello spirito per essere forte non devi perdere il controllo usa le armi a tua disposizione con prudenza e saggezza metti a freno le parti di te che vorrebbero la vendetta che vorrebbero attaccare che vorrebbero diciamo risolvere la questione in modo brutale devi dominare la paura e le aggressività che sono dentro di te e devi restare concentrato non permettere che eventi esterni possano influenzare in modo negativo il tuo stato d'animo la forza infatti ti permetterà di ottenere una vittoria con la forza della ragione poi abbiamo la giustizia la giustizia è una carta bellissima perché la giustizia è la legge, l'equilibrio tutto quello che ci è stato fatto o che noi abbiamo fatto verrà giudicato ciò che cosa significa? significa che se noi abbiamo fatto del bene riceveremo una ricompensa mentre se noi abbiamo fatto del male la spada della giustizia ci colpirà con vehemenza di conseguenza dobbiamo effettivamente farci un esame di coscienza perché questa carta è molto significativa dobbiamo sottoporre alla giustizia le azioni sia nostre che degli altri e chiedere una revisione delle nostre azioni dobbiamo essere giusti dobbiamo relazionarci con gli altri però dobbiamo essere anche sinceri a tal punto e cercare di capire se noi abbiamo fatto del bene e perciò avremo una ricompensa nel vedere che le altre persone finalmente pagheranno per i loro misfatti oppure se noi abbiamo fatto del male a determinate persone e di conseguenza dobbiamo aspettare la nostra punizione infatti la carta del pagamento dei debiti del messaggio delle fate che cosa ci dice? ci dice che questa carta segnala un grande cambiamento nella tua situazione che sia affettiva, finanziaria, lavorativa hai preso una decisione irremovibile per liberarti delle vecchie situazioni ci sono in ballo delle opportunità molto importanti per cercare di cambiare la situazione che abbiamo in questo momento perciò questa situazione sicuramente da questo cambiamento di questa situazione noi ne trarremo un vantaggio e posso diciamo essere più che sicura che questo cambiamento tutta questa diciamo giustizia la forza che metteremo nel combattere diciamo le situazioni che verranno nel prossimo futuro che già abbiamo in ballo e la giustizia è legata sicuramente a qualcosa che riguarda la famiglia e la casa la famiglia e la casa in che senso? qui vediamo i due sposi vi faccio vedere meglio ecco qui vediamo i due sposi ma la questione potrebbe essere anche fra fidanzati potrebbe essere anche fra marito e moglie potrebbe essere fra amanti potrebbe essere fra amiche, colleghi di lavoro un qualcosa che è legato o all'ambiente familiare della casa oppure alla coppia in senso generale oppure anche legato all'ambiente di lavoro bene con questo abbiamo finito anche di leggere la terza variante io vi ringrazio per aver visto questo video ricordo a tutti che le mie stese sono in modo generale chi non si fosse ritrovato in nessuna delle tre varianti chi può scrivermi un'email descrivendo qual è il suo quesito potete farmi qualsiasi domanda tranne sulla salute per quello si deve andare dal medico perché la salute non può essere gestita dalle carte ma deve essere gestita da professionisti che sanno chiarire i vostri dubbi io con questo vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video e ci vediamo al prossimo video